Tanto scalpore per la messa in vendita della casa natale di Salvatore Quasimodo in via Posterla a Modica. L'annuncio è apparso in diversi siti ad un prezzo di 395 mila euro. La casa è situata in un punto panoramico di Modica sotto la torre dell'orologio e la casa in cui nacque il 20 agosto 1901 Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la letteratura 1959. Si può visitare e il grande poeta visse qui i primi 14 mesi della sua vita. Nella stanza in cui vide la luce è presente un letto in ferro battuto, un inginocchiatoio, un capezzale e altri mobili a redi di primo novecento. Inoltre una vecchia macchina da scrivere a Olivetti, uno scrittoio, una collezione di dischi, una libreria con annessi libri provenienti da uno degli studi di Milano, che il figlio Alessandro ha ceduto alla regione siciliana nel 96 insieme ad altri oggetti regolarmente inventariati dall'assessorato regionale ai beni culturali. L'assenza della poesia è un museo che propone un'immersione nella poesia quasi modiana grazie ad un percorso che prevede la lettura di alcune delle più belle liriche del poeta attraverso la sua voce. Infatti, da un vecchio nastro ai visitatori viene fatta ascoltare la voce del poeta che recita alcune sue poesie e sempre dalla sua viva voce il discorso dal titolo Il politico e il poeta, da Quasimodo letto a Stoccolma in occasione del conferimento del Nobel. Un modo suggestivo per scoprire e approfondire la poesia quasi modiana attraverso le tematiche affrontate la guerra, gli affetti e la Sicilia. L'associazione Proserpina ha lanciato una raccolta fondi per scongiurare il pericolo di una vendita. La presidente dell'associazione Barinella Ruffino afferma La Casa Museo non è solo patrimonio della città, ma di tutto il mondo. La sua integrità e la sua preservazione per il mondo della cultura non riguarda solo l'associazione. Sulla Casa Museo, in vendita per 395.000 euro, vi è un diritto di prelazione da parte della regione. È evidente che si tratta di una dimensione culturale del valore storico e ha una specifica dimensione sul piano della memoria, che deve continuare a vivere. Grazie a tutti.